Parliamo del fatto più importante della gara che non si è verificato sul rettangolo il gioco, ma negli spogliatoi, l'espulsione di Didato. Per la verità io ero ancora in mezzo al campo, quando sono entrato dentro me l'hanno detto, quindi non l'ho verificata in diretta. Il ragazzo mi diceva che aveva detto al loro capitano che gli aveva riferito di lasciare perdere perché era già munito e lui ha detto vabbè ma io alla fine quanto tempo posso giocare ancora e l'arbitro sentendo questo il rettangolo ti mando io direttamente fuori. Didato è un ragazzo di temperamento, un ragazzo che quando fa la partita si fa prendere talmente tanto perché ha preso già due giornate di squalifica, otto ammunizioni in otto partite significa che comunque non riesce a contenerlo durante la gara, il suo modo di fare, il suo modo di fare calcio. Ecco, un giocatore esperto a abbandonare la squadra nel momento di difficoltà dove sta perdendo deve cercare di recuperare una partita se non ribaltarla viene espulso quindi fai fatica dopo. Stavo pensando come riassettare la squadra in quattro dietro e invece mi sono trovato che ho dovuto poi inventarmi una difesa a tre con due ragazzi che comunque non sono difensori centrali e rimaneva difficile già rimontare una partita in sé per sé che ci eravamo complicati da solo perché tu qua tutte le palle inattive basta, sono tre o quattro partite che sto qua, ogni calcio d'angolo, ogni punizione laterale è un pericolo perché siamo, al di là della prestanza fisica, siamo anche molto disattenti. Mister, in effetti si è visto una squadra che ha cercato di giocare a calcio, l'ha fatto anche bene, però ha subito delle ripartenze, questo nel primo tempo, per quanto riguarda mentre nella ripresa una squadra che in effetti è sembrata impalpabile. Già di per sé giocare in dieci e devi rimontare una partita, il secondo tempo rimane difficile. Dopo dieci minuti prendi anche il rigore del gol del 2-0, a quel punto la partita è rimasta difficile. Dobbiamo trarre solo delle conclusioni positive dei primi 27-28 minuti fino al loro gol quando potevamo fare due gol tranquillamente e poi ci siamo trovati in svantaggio perché la palla che ha avuto Pasquale Savio a un metro dalla porta dove si è riuscito a liberare, bastava appoggiare, non tirare di forza. Il portiere già era seduto per terra, quindi non avendo Nicola Calise, un 99 come difensore, ho dovuto adattare un esterno alto al terzino destro, perché il 99 in un altro è sempre comunque un esterno alto, Cantelli. Non avendo giocatori di ruolo abbiamo sofferto. E' un campionato difficile soprattutto perché dietro ci sono tutte squadre di buona qualità. Ma io penso che in questo campionato ci stanno sei squadre di cui una deve retrocedere direttamente. Le sei squadre che mi riferisco al Forio, al Barano, al Pimonte, al Monte di Procida, alla stessa Mariglianese e alla Virtussevulla. Queste sono sei squadre, l'una è retrocedere, perché il resto sono squadre che non appartengono a questa categoria, sono di ben altro spessore. Dobbiamo cercare di arrivare nella zona play-out e possibilmente non staccarci di 10 o 9 punti dalla quinta ultima o dalla terza ultima in modo da disputare un play-out. Ogni partita diventa un esame e l'esame ti pesa. I giocatori più esperti si fanno prendere dalla mania e dalla smania di voler fare le cose per conto proprio, ci allunghiamo con la squadra e questo non ti fa giocare da squadra perché non hai la tranquillità dei punti di classifica. Quello è il discorso.